Io ho l'onore di darvi il benvenuto da parte del Centro Studi Italiani, Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, istituzione partner del programma Dance Masterclass, che è qui in Orbania da ormai una decina di anni, nove per esattezza, e che questa sera presenta il programma Beyond Horizons, giunto appunto alla sua nonna edizione. Qui come sul palco ho la direttrice e fondatrice del programma, Angela De Mello, che possiamo con tutti quanti carità. Io ho l'occasione del microfono per ringraziarti Angela, a parte della scuola, a parte della famiglia Basotte e anche di Orbania per tutto quello che fai per rendere Orbania, secondo me, più bella e più divertente. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!